Ciao, dopo aver visto la classifica delle categorie nel video precedente, vediamo qui finalmente la classifica dei 50 siti più popolari in Italia. Sì, parliamo anche di quelli per i quali hai cliccato dopo aver visto l'immagine di copertina. Quale sarà il sito con più tag che quindi distribuisce i nostri dati personali a più aziende? E quali quelli con il minor numero di tag? E infine, quali sono i tag utilizzati ad esempio nei siti per adulti? Tutte le risposte in questo video. Questo video è suddiviso in tre parti. Nella prima parte che inizia subito vediamo velocemente la classifica dei 50 siti più popolari in Italia. La vediamo velocemente perché è tanto tutta la suspense che potevo creare ma la sono giocate nel video precedente. Quindi, se ami i brividi e non te lo sei ancora visto, metti in pausa adesso, vai a rivedertelo, oppure se vuoi fare la cosa più completa di tutte comincia addirittura dal primo. Qui invece andiamo direttamente al sodo, vediamo tutte le posizioni con qualche commento e poi il resto lo puoi andare ad approfondire nell'articolo sul mio blog associato a questo video, dove trovi tutti i dati, trovi il file da scaricare con dentro tutto. Nella seconda parte parliamo di piggybacking. Non preoccuparti adesso se non hai mai sentito questa parola, ti racconto tutto dopo. Nella terza e ultima parte vediamo invece quali sono i tag di Pornhub, giusto per analizzare un sito per adulti. Vediamo un po' il, diciamo, il dietro le quinte. E ci sono un sacco di cose super interessanti per chi come me si occupa di marketing e di dati, che sembrano temi distanti dal mondo della pornografia, che invece, al di là della sensibilità di ognuno, qui non stiamo parlando di pornografia in sé, è un mercato molto avanzato dal punto di vista tecnologico. Partiamo! Ecco il dettaglio dei siti. Al primo posto, la leggepertutti.it con 162 tag ed una media di 36 tag per pagina. Attenzione, questa è una media. Come puoi vedere, la homepage di questo sito raggiunge circa i 50 tag, aspettando un pochino e utilizzando gli strumenti che abbiamo visto nel video precedente, che sono gosteri e tag explorer. E aspettando un pochino o facendo qualche azione, è probabile che questo numero venga superato abbondantemente. Quindi, lo ripeto, mediamente hai 36 tag diversi per pagina. Se tu dovessi navigare tutte le 100 pagine che sono state analizzate dall'analisi automatica che ha fatto Tag Inspector, potresti alla fine aver incontrato ben 162 tag differenti. In altre parole, i tuoi dati di navigazione potrebbero essere stati inviati a 162 aziende diverse. Comunque, continuiamo. Al secondo posto abbiamo ansa.it con 161 tag ed una media di 29. E al terzo posto Virgilio.it con 158 tag ed una media di 25 tag per pagina. Vediamo ad esempio che nella categoria social media, nei primi 50 siti più visitati in Italia, oltre a Facebook, troviamo anche Reddit, che sinceramente non credevo di trovare nei primi 50, ma che evidentemente è più utilizzato di quello che si pensi. E addirittura ViContact, che nel caso non lo conoscessi, lo possiamo definire come il Facebook russo. Parlando di social media, YouTube è presente, solo che l'avevo inserito nella categoria video. Insieme a Mediaset.it, Netflix, RaiPlay e Diretta.it. I sei siti per adulti presenti nell'analisi sono comunque tutti in basso, tra la 38esima e la 45esima posizione, con un numero di tag variabili tra 5 e 9. Ricorda però, questi dati sono i dati di un'analisi che proviene dagli Stati Uniti. Sebbene ti abbia detto che i numeri sono comparabili tra le visite degli Stati Uniti e le visite italiane, ci sono alcuni aspetti per i quali possono differire, in particolare sui siti americani, i quali, come vedremo poi, escludono l'attivazione di alcuni tag per gli utenti che navigano dall'Europa. Comunque, questa è la classifica completa. E ti ricordo che tutti i dati li trovi sul mio sito, sull'articolo associato a questo video, il cui link è in descrizione. Lì trovi tutti i dettagli, trovi anche il file completo scaricabile con tutti i dati acquisiti dalla scansione di Tag Inspector, con tutte le pagine visitate e tutti i tag presenti in ogni pagina. Puoi sbizzarrirti con l'analisi se vuoi. Dato che abbiamo parlato di numero di tag medio per pagina, può essere anche interessante vedere qual è la pagina che presenta più tag in assoluto. Ricorda che non è nulla di più di una curiosità, perché il numero di tag effettivi presenti su un sito dipende da tantissimi fattori indipendenti, come vedremo tra poco, dalla volontà di chi gestisce quel sito. Comunque, giusto per soddisfare la curiosità, la pagina è questa. Ed è questa con la scansione fatta l'8 di gennaio. Oggi potrebbero essere diversi i dati. La scansione dell'8 gennaio effettuata dagli Stati Uniti ha rilevato 101 tag. Facendo una scansione adesso dall'Italia, ne rileva 50 circa. Questa pagina appartiene al sito ansa.it, che è il secondo sito con il numero medio di tag per pagina. Ora potresti chiederti, perché a pagina diverse hanno tag diversi? Non hai detto che i tag li inserisce il responsabile del sito? Sì o no, è giunto il momento di parlare di piggybacking. Guarda questa cosa. Apriamo Tag Inspector, lo strumento che ho usato per analisi automatica. E vediamo la scansione che ha effettuato sulla legge per tutti l'8 di gennaio del 2020. In questa scheda c'è un grafico che ci può aiutare a capire meglio la situazione. Tag Inspector traccia una mappa di tutti i tag che vengono presenti sul sito e mostra come questi vengono caricati. Questa è la visione complessiva di tutte le 101 pagine e quindi tutti i 162 tag che sono stati rilevati. Dico come è molto grande. Poi volendo c'è anche lo schema per ogni singola pagina ma questo non è importante in questo momento. Questa, dicevo, è la rappresentazione dei tag di tutto il sito. Quindi questo vuol dire che chi ha gestito il sito ha inserito 162 tag diversi? No. I tag inseriti dal gestore sono quelli di primo livello. Quindi quelli che sono agganciati, diciamo così, direttamente al sito. E talvolta anche quelli di secondo livello. Ad esempio per i più tecnici sono i tag inseriti tramite Google Tag Manager. Ma non andiamo oltre, non parliamo di aspetti tecnici qui. Quello che voglio farti vedere è quanto è profondo, guardandoli in orizzontale, questo grafo. Vedi com'è lunga questa catena di tag? Un tag ne carica altri che ne carica altri e così via. Arrivando anche a 5-6 livelli di annidamento. E fanno presto diventare oltre 100 tag. Il gestore ne inserisce qualcuno ma gli altri vengono inseriti dai tag che ha inserito il gestore e così via. E' un po' come quando si entra in un locale con ingresso riservato e tu sei la persona importante. E' come nelle più famose scene dei film, tu dici la famosa frase loro sono con me. Portandoti dentro altre persone. Ecco questo fenomeno dei tag che ne portano dentro altri nel sito è chiamato piggybacking. Che in italiano potrebbe essere tradotto un po' come a cavalcioni. Cioè in maniera figurata è un po' come se i tag che vengono inseriti dal gestore del sito avessero sulle spalle appunto altri tag che entrano insieme a lui, insieme a loro. Ne parlerò più approfonditamente in un altro video che devo ancora scrivere quindi ci vorrà un po' di tempo. Però sappi che chi gestisce il sito non è responsabile di questi tag. Non è responsabile dal punto di vista tecnico perché non è lui a inserirli. E non è responsabile nemmeno dal punto di vista legale che non deve indicarli nella privacy policy. Sembra strano ma è così. Per questa parte peraltro oltre a essermi confrontato con il team di Tag Inspector mi sono confrontato anche con Ubenda. In particolare sul mio canale trovi una serie di video che ho fatto per un'intervista a Martina Medri che è business developer di Ubenda. E in uno di questi video parlo proprio nello specifico del piggybacking. Se come in questo caso un tag come Outbrain carica decine di altri tag che a loro volta caricano altri tag e così via, io come responsabile del sito devo dichiarare nella privacy policy solo Outbrain. Questi altri non devo dichiararli. Il punto è che il piggybacking è un comportamento dinamico ed è proprio a causa di questo comportamento dinamico che il titolare del sito non riesce a gestire questo aspetto. Non è che non è tenuto a farlo perché è una scocciatura, è che è proprio impossibile farlo. Mi spiego meglio. In questa schermata ci sono 162 tag che ti ricordo sono tutti tag diversi incontrati durante l'analisi. Ora già solo per il semplice fatto che mi sto collegando all'Italia potrei avere un numero diverso di tag. Ma potrei avere un numero ancora diverso se mi collegassi tra mezz'ora. In genere il comportamento è questo. Chi gestisce il sito decide quali sono i tag che ci devono essere. E sono alcuni tag. Poi quello che succede con i tag figli, nipoti, pronipoti e così via dipende da diversi fattori. Dipende da vari algoritmi che decidono come gestire questi tag. Alcuni servizi americani nelle loro policy indicano espressamente di non tracciare il comportamento dei cittadini europei. Questo a causa del GDPR. Vedi ad esempio questo che è di Oracle. Quindi l'ho detto e lo ripeto c'è una certa variabilità che dipende dalla posizione dalla quale ti colleghi. E quindi certamente il fatto di aver fatto l'analisi partendo dagli Stati Uniti influisce un po' sui risultati. Ma dal punto di vista complessivo, dal punto di vista dell'ordine di grandezza, le verifiche che ho fatto portavano risultati comparabili. Quindi un conto è il risultato della ricerca, un conto è il comportamento. Sono due cose diverse. Dal punto di vista del comportamento del singolo sito, i tag che troviamo dipendono dalla posizione dalla quale ci colleghiamo. Alcuni siti americani, lo ribadisco, non attivano tutti i tag per i cittadini europei. Peraltro ricorda che questo comportamento dinamico non ha alcun impatto sulla funzionalità del sito. Il sito funziona sempre allo stesso modo. Quello che cambia è quello che accade dietro le quinte. Il numero di aziende alle quali i nostri dati vengono inviati, diciamo così. Quindi dal punto di vista della privacy, di fatto un utente non può sapere a priori quali sono le aziende alle quali andranno i suoi dati. Non può saperlo. Può leggersi la privacy policy prima, ma nella privacy policy e nella cookie policy ci sono solo le aziende che ha scelto il titolare del sito. Sarà poi responsabilità di queste singole aziende, nelle rispettive privacy policy e cookie policy, indicare quali a loro volta aziende hanno accesso ai dati di secondo livello e così via. Una possibilità per chi fosse più sensibile alla tematica, per avere qualche informazione su, non a priori però, ma in tempo reale, diciamo così, sulle aziende che hanno accesso ai loro dati, è di attivare i plugin, di attivare le estensioni che ti ho mostrato per Chrome, come Gosteri o Tag Explorer, che ti danno, ti dicono quali sono i tag che vengono attivati in quel momento. Vediamo infine in chiusura quali sono i tag attivati da Pornhub. Apriamo quindi Tag Inspector e vediamo la scansione che è stata fatta l'8 di gennaio. Qui abbiamo solo 6 tag e vediamo quali sono. Abbiamo 4 tag di Google, tra cui l'onni presente Google Analytics, oltre a Traffic Junkie e Mixpanel. Velocemente vediamo cosa sono questi due strumenti super interessanti per chi si occupa di marketing. Allora, Traffic Junkie è la piattaforma pubblicitaria di Pornhub. Guarda qua che numeri, ci credo che Pornhub sia offerta ad aiutare l'Inps. Ed è vero, ecco l'account Twitter di Pornhub, che è fondamentalmente un account di marketing e comunicazione, ed il tweet vero che è stato fatto all'Inps da Pornhub, dove si offriva l'aiuto. Guardando il sito di Traffic Junkie e spulciando tra le pagine, qui si capisce che è un sito di qualità. Guardando ad esempio la possibilità di targeting, con la possibilità di, vabbè alcune sono più semplici e classiche, possibilità di decidere se, di mostrare la pubblicità, di far comparire la pubblicità a chi guarda durante il giorno, a chi guarda durante la notte, targeting geografico, targeting per dispositivo. Insomma, ci sono targeting per keyword di ricerca e soprattutto un tipo di targeting che è unico di questo tipo di piattaforma, ovviamente, è quello sulle preferenze sessuali, perché altre piattaforme questa informazione non ce l'hanno. L'altro tag invece è Mixpanel. Anche questa è una super piattaforma di analisi, una piattaforma di analisi comportamentale. Credo che sia in grado di identificare automaticamente anche i segmenti, che hanno funzionalità ricercatissima, soprattutto per chi fa e-commerce e vuole andare a individuare vari segmenti di utenti, è ad esempio in grado di fare analisi di questo tipo, guarda questa, mostrami gli utenti di Bing o di Google o di altri siti che sono in correlazione con l'evento aggiornamento dell'abbonamento, quindi upgrade dell'abbonamento. Fantastico, a me queste cose fanno impazzire. Molto bello, molto molto bello, quindi me la guarderò sicuramente bene. Peraltro ha anche un piano freemium e quindi ti permette di cominciare a sperimentare senza spendere troppo. Insomma, devo guardarmela, non la conosco, quindi non ne voglio parlare più di tanto. Ovviamente è un tipo di piattaforma che ha senso, immagino, per siti con grandi numeri, perché per fare analisi comportamentale o hai tanti numeri o non riesci a estrarre informazioni dai dati. Comunque questo è quanto, ho cercato di presentare delle situazioni nel modo più oggettivo possibile, fornendo dati ed evidenze. Spero che questo video contribuisca a migliorare la gestione dei tag sui siti di casa nostra e anche a sensibilizzare maggiormente gli utenti e i gestori del sito. Non stiamo parlando di frodi o di azioni illecite. Tutto avviene nella legalità. Almeno fino a quando, rispetto alle tematiche di cui stiamo parlando, i siti rispettano GDPR e cookie law. E qui devo dire che in me la strada è ancora un po' lunghetta, ma di questo te ne parlo nel prossimo video. Alla prossima, ciao! Sto registrando, faccio partire. I capelli qua. Mi sa che... Mi sa che la quarantina ormai... I capelli sono andati. Vabbè. Mi sa che...